Da ieri sono state inserite nella piattaforma telematica regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-covid-19 nuove categorie che potranno aderire alla campagna. Lo ha comunicato l'assessore alla salute Nicoletta Verì che già nei giorni scorsi aveva preannunciato l'ampliamento della platea di coloro che avrebbero potuto iscriversi alla piattaforma. Alle categorie già attivate dal 18 gennaio scorso e aggiornate il 13 febbraio si aggiungono le seguenti. Personale non assistito e non residente in Abruzzo ma operante in scuole e università abruzzesi. L'accesso può avvenire esclusivamente attraverso il sistema SPID. Personale afferente ad enti di formazione accreditati dalla regione Abruzzo. L'accesso con tessera sanitaria per i residenti con SPID per i non residenti. Doppia iscrizione ad esempio se un utente si è già registrato come soggetto fragile potrà registrarsi anche come operatore scolastico. Personale degli eseri nido pubblici e privati, insegnanti di sostegno, tirocinanti, personale scolastico non docente e non compreso in altre voci. La piattaforma per il personale scolastico resterà in funzione fino al prossimo primo marzo, salvo proroghe, e raggiungibile collegandosi al portale Sanità della regione Abruzzo, sanità.regione.abruzzo.it.